ho aperto sul mio sito una pagina dedicata agli studenti di camaleon pagina che vi suggerisco di visitare anche se a dire la verità per il momento le schede sono poche in confronto al numero dei camaleonti che stanno seguendo il corso devo dire in continuo aumento una cosa pazzesca una delle cose fondamentali che i camaleonti hanno dovuto fare per poter avere questa scheda sul mio sito è stata quella di scrivere una brevissima autobiografia di poche righe in tanti devo dire la verità si trovano in difficoltà quando si tratta di scrivere poche righe su se stessi e soprattutto è difficile trovare il modo di dire in modo interessante qualcosa su noi stessi saper dire qualcosa di interessante su noi stessi in poche righe oltretutto è un'attività molto sfidante e allo stesso tempo utilissima soprattutto in questo periodo dove le persone si informano sul web dove tutto avviene in modo istantaneo e soprattutto in un mondo dove gli utenti non perdono troppo tempo su quelle cose che non risultano come dire interessanti e che presentano in modo noioso e tediante e dunque voglio racchiudere in questo video cinque consigli da seguire per scrivere una buona autobiografia d'artista numero uno in prima o terza persona è il grande dilemma c'è chi dice che va scritta in prima persona c'è chi dice che va scritta in terza la versione preferita anche per quanto riguarda un punto di vista di comodità e di condivisione sui social è la terza persona da anche come dire un'impressione migliore poiché sembra che qualcun altro stia scrivendo di noi stessi dobbiamo dire infatti che la prima persona sembra un modo autoreferenziale ma dipende molto da come scritta questa autobiografia siamo artisti ed è quindi questa una regola che possiamo anche considerare semplicemente come una traccia se vi sentite di scrivere la vostra autobiografia in prima persona nessuno vi porterà in carcere semplicemente state attenti a non essere troppo autoreferenziali questa cosa la potete facilmente evitare con ad esempio un po' di autoironia di cui parleremo tra poco l'importante è che voi siate a vostro agio se proprio volete andare sul sicuro allora utilizzate la terza persona consiglio numero due parla a un bambino il linguaggio è fondamentale nella biografia che metterai nei tuoi canali social ad esempio instagram facebook oppure portali di vendita dunque sì il più semplice possibile immagina di raccontare la tua storia a un bambino perché questo semplicemente perché le persone che entrano in contatto con i tuoi contenuti che siano i tuoi post o la tua autobiografia sono di qualsiasi genere di qualsiasi età di qualsiasi livello culturale sia che queste persone siano entrate in contatto con i tuoi contenuti volontariamente o per caso dunque parla potabile punto numero 3 humor sei un creativo e ai navigatori piacciono le persone simpatiche semplici alla mano inserisci quindi nella tua autobiografia un pizzico di ironia ovviamente senza esagerare consiglio numero 4 aggiornamenti tieni sempre aggiornata la tua biografia se prima vivevi in francia e ti sei per qualsiasi motivo trasferito in spagna dovresti aggiornare la tua posizione geografica idem se ad esempio è cambiato il tuo dominio per cui il tuo sito non è più www.illustrazioni di marco.com ma www.marcosillo.com quinto e ultimo consiglio differenzia l'autobiografia breve da quella lunga la biografia breve è quella che vediamo ad esempio su instagram pochi caratteri per dire chi sei dove sei e cosa fai la biografia breve deve essere dunque una frase curiosa oppure forte che porta le persone a proseguire a sapere di più di te quindi magari a vedere i tuoi post su instagram oppure a guardare il tuo portfolio online o a leggere i tuoi articoli la biografia lunga invece è formata da molte più informazioni come ad esempio dove siamo nati che cosa ci ha portati a fare l'artista quali sono stati ad esempio i tuoi percorsi di studio i premi che hai vinto i concorsi ai concorsi a cui hai partecipato i tuoi successi e così via la tipica frase di un artista che tutti noi abbiamo detto almeno una volta nella vita è voglio che le mie opere parlino al posto mio tutto per non dire sono timido e non ho voglia di parlare di me è un concetto un po' vecchio a dire la verità perché come accade esattamente nei libri illustrati per bambini o in qualsiasi libro racconto romanzo alle persone ai lettori piace avere a che fare con un essere umano piace sapere che dall'altra parte ci sta un essere umano esattamente come lui dunque mi raccomando scrivete la vostra autobiografia lunga e breve senza timore seguendo questi semplici consigli e commentate questo video lasciando tra i commenti ad esempio il link del vostro profilo instagram o la biografia che avete scritto sul vostro sito giusto per andare a curiosare nelle vostre storie buona creatività